Le ultime eruzioni avvenute a Lanzarote si verificarono nel 1824 e furono precedute da un largo periodo preliminare di dieci anni, durante il quale si registrarono nell'isola numerosi terremoti di intensità intermedia. Quest'eruzione si caratterizzò principalmente per la grande fluidezza delle sue lave ed in modo speciale per i getti d'acqua salata e molto calda che per giorni interi uscirono dai crateri come enormi geyser che raggiungevano i 30 metri d'altezza. Grazie a tutti, grazie a tutti.